buongiorno a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo e velocissimo video sono qui per aiutarvi nella sfida che è stata appena giunta vedete voi stessi là in alto a sinistra che dici di rimbalzare su diversi oggetti per cani nella villa delle formiche ragazzi e come vedete dall'immagine in alto a destra che adesso vi zoom la location si trova a nord est di siepi d'agrifoglio ragazzi siepi d'agrifoglio mi raccomando tra siepi d'agrifoglio e borgo bislacco ragazzoli scusate se non ve l'ho fatto vedere direttamente nel video ma me lo sono dimenticato ragazzi piccolo errore può capitare la prima volta che succede buona continuazione allora gli oggetti per cani li vedete sono l'osso la palla da tennis ce ne sono di diversi tipi bisognerà farlo in quattro diversi io vi faccio vedere questo qui partendo nell'erba uno è andato lì c'è un'altra pallina a tennis proviamo a fare quella dentro prima siamo a due vediamo questa qui se ce la prende come terza andata e andiamo a cercare la quarta che vi consiglio dovrebbe essere qua sotto ragazzuoli eccola di cappare ed ecco qui la quarta tutte le sfide completate o meglio tutte e quattro gli oggetti su cui rimbalzare li abbiamo completati ce ne dovrebbero essere anche altri sotto se curiosate bene li trovate ma comunque questi qua ve li consiglio e sono facili facili da fare io spero che il video vi sia stato utile mi raccomando un bel like condividete con tutti questo video noi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando codice creator lollo duke 97 se shoppate nello shop di forte ma voi mettetelo che magari la shoppata ci scappa e ve lo dimenticate ragazzi in descrizione trovate tutti i link che vi possono interessare buona attenzione a tutti e ciao ciao buona attenzione a tutti